tempo, quindi... Diciamo che potresti inserire forse le interviste solamente anche, perché no le interviste comunque le abbiamo tutte su YouTube a parte quella di Land Race e Mezza Idel, le abbiamo tutte su YouTube quindi non non è un problema Prof, noi abbiamo fatto la nostra anche oggi, abbiamo brevemente una frazione di tempo dedicata, perché l'altro è l'intera live è dedicata a Scott Hall per ricordare insomma la sua memoria, perché a lui dobbiamo tutto, cioè se io oggi considero l'NWO la mia stable preferita di sempre, lo devo a lui quindi gli dobbiamo tutto al bad guy Io voglio ricordare appuntamento come sul calendario che già c'è sul nostro gruppo Telegram appuntamento lunedì 11 alle ore 21 con il nuovo sboosting a tema penso che sarò il primo a farlo in tutto il mondo delle nuove carte della Stardom quindi con me ci sarà il tema femminile sì, il dressing giapponese femminile Joshi con me ci sarà la nostra donna tra le corde ossia Rachele in più ci sarà Cucurnia il nostro cookie e in più Stefano Gabrielli dal lato viola del ring che lui è esperto comunque molto interessato il dressing femminile al Joshi quindi sì sì ci vuole Don Zee Don Zee lo chiamiamo così solamente per per dirne quattro su tutte le lottatrici che troviamo va bene quindi appuntamento lunedì alle ore 21 e invece appuntamento prossimo tra un'ora c'è Lola Bautelit con Simone Spada e niente aspettiamo con ansia e trepidazione il buon Spada allora va bene prof allora grazie di nuovo per tutto per l'intervista ad Ogimo per questa live rinnovata qui su Open Wrestling appuntamento a settimana prossima che insomma ci saranno altre tematiche belle calde con grandi ospiti vi confermo già da adesso un gradito ritorno ovvero quello del buon Frank Mantolini dei Last Minute Wrestling Podcast e soprattutto editore del Pro Wrestling Illustrated e niente stay tuned sul Pro Wrestling Culture the big land of Wrestling Web where the big boys play too sweet